Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è venerdì 10 dicembre 2021, il sole risorge questa mattina alle 7 e 29, tramonta alle 16 e 30, questa mattina improvvisiamo un po' la rassegna stampa, dato che i giornali sono arrivati tardi in edicola e quindi vedremo insieme quali sono le notizie che appaiono sui giornali appunto. Cominciamo però con il santo del giorno perché oggi è un santo, è un festeggiamento particolare specialmente per noi marchigiani. Infatti si festeggia la Madonna di Loreto, la Santa Casa di Loreto, una reliquia così preziosa dato che in quella casa visse Gesù bambino. Fu trasferita a Loreto nelle Marche il 10 maggio 1291 dopo essere passata per la Croazia e poi depositata in un bosco appunto che si chiamava Loreto nei pressi di Re Canati. È una storia bellissima quella della devozione per la Santa Casa di Loreto e quindi per la Madonna che l'ha abitata. La sua statua L'Ignea purtroppo fu perduta perché fu distrutta da un incendio nel 1921 rifatta in legno di cedro di Libano e tinta di nero. Oggi è oggetto di grande amore, di grande devozione. E veniamo ora alle previsioni del tempo. Vediamo che la cartina delle Marche evidenzia ancora nuvolette con un po' di sole, comunque perdura il maltempo con piogge e neve sopra gli 800 metri in calo verso la sera. Più asciutto il tempo sulle coste rispetto all'entroterra e le temperature variano dai 2 gradi per quanto riguarda la minima ai 9 gradi per la massima. E apriamo il Corriere Adriatico sulla prima pagina per vedere la sintesi delle notizie che sono poi evidenziate e illustrate all'interno. Pestaggio in carcere, 4 minori. È stato arrestato anche il resto del branco che alla Rocca di Fano aggredì i due ragazzi a causa dello smalto nelle unghie. Nei giorni scorsi abbiamo relazionato sulla individuazione l'arresto dei due ragazzi che hanno poi malmenato le due vittime e oggi anche tutto il resto del branco. Sono stati identificati tramite le telecamere e denunciati i vandali anche del presepe al Pincio. Sono due fanesi di buona famiglia. Su Marche Nord il carico del Covid, il titolo della fotonotizia a centro pagina. C'è anche una dichiarazione del primario del pronto soccorso di Pesaro. Gnudi, persi posti letto per la pandemia, ha detto. Le tre notizie a centro pagina. Casellati ad Urbino ha fatto l'omaggio a Carlo Bo, ma silenzio sulla legge capoluogo che è stata posta in evidenza dal sindaco Gambini. A Pesaro una famiglia contagiata isolata da dieci giorni. L'Azur non risponde. E poi ancora sempre nel capoluogo, sofferente di asma priva di mascherina apostrofata alle poste. Insomma, sono dei disagi, dei disguidi, dei problemi, diciamo meglio, che interessano coloro che sono stati colti dal Covid nonostante siano vaccinati. A Fano cambia ancora la panchina del Fano Calcio affidata a Catalano dopo l'addio di Capellacci. Apriamo la pagina del Corriere Adriatico e vediamo subito le notizie che riguardano Pesaro. A Pesaro c'è il maggior carico di Covid, più disagio ancora per il pronto soccorso. Il primario Gnudi, seconda intensiva con personale, eletti di un reparto pulito. Stazionamento fino a quattro giorni per un ricovero. I medici calati del 37% in un anno. Veramente una sintesi di un ritratto molto problematico. E vediamo anche le potenzialità e le sofferenze di Marche Nord del complesso degli ospedali che fanno parte dell'azienda ospedaliera. Nei reparti Covid ricoverati ieri 62 malati su 143 in tutte le marche, pari al 43,4% del totale. E nell'azienda ospedali riuniti di Ancona sono stati ricoverati ieri 34 pazienti Covid, pari al 23,7% del totale. In un anno i medici in servizio al pronto soccorso dell'azienda pesarese sono diminuiti del 37,5% da 40 di dicembre 2020 a 25 del mese di quest'anno, del dicembre appunto del 2021. E poi abbiamo una notizia emblematica. Vedete qui la fotografia di Francesca Padiglione che era un'operatrice del pronto soccorso dell'ospedale San Salvatore di Pesaro. Lascio il mio lavoro, sono molto stanca, rispettate quello che facciamo, ha dichiarato la dottoressa. Lo ha detto in una trasmissione televisiva trasmessa da La Sette. Sono stanca, molto stanca, lascio il pronto soccorso di Pesaro perché non ce la faccio più. Il rispetto per il nostro lavoro comincia a scarseggiare. Un ultimo appello, se posso, abbiate rispetto del nostro lavoro, ha dichiarato. Senza mascherina perché asmatica, vessata alle poste, chiama la polizia. La donna, che al nono mese di gravidanza, aveva esibito allo sportello delle poste un regolare certificato di esenzione che era stato rilasciato dall'ASUR, quindi un certificato ufficiale. Per la seconda volta però è stata presa a male parole dai presenti e zittita dal direttore. Potrei denunciare tutti, ha dichiarato. Il fatto è avvenuto il 26 novembre scorso all'ufficio postale di via Maroncelli a Pesaro. E poi qui un'altra vicenda esemplare. Noi fantasmi del Covid, nessuno però ci fa i tamponi. Madre, padre e figlio vaccinati, ma risultati poi positivi. Scrivono ad Acquaroli. L'ASUR non ci risponde. Siamo in auto quarantena da dieci giorni su segnalazione del medico, per il Green Pass però siamo sani. Insomma non vengono a fare i tamponi, il Green Pass non cambia, la situazione diventa veramente, così si lascia allo sbando. Una situazione da porre a rimedio. Qui abbiamo poi un articolo che riguarda il disboscamento della zona della Baratov, la bretella di Muraglia, via al cantiere. Sono iniziate le attività preliminari della prima strategica opera accessoria alla terza corsia autostradale e in questo caso Pesaro non perde tempo. Notizie di cronaca, abusi sessuali sulla figliastra minorenne. Una condanna all'orco confermata a otto anni. Si tratta di un operaio di 51 anni che la bambina chiamava papà pensate. E' stato accusato anche di induzione alla prostituzione. E' una vicenda piuttosto squallida quella che viene evidenziata oggi dal Corriere. All'età di 14 anni questa bambina è stata oggetto delle attenzioni certo non innocenti del padre, diciamolo così, anche se padre non era. Sono cominciati con i palpeggiamenti, poi contatti sempre più espliciti e spinti, rapporti che si sarebbero consumati quando lui era solo in casa e aveva poi indotto a concedersi la bambina a forza di alcol. Insomma l'aveva fatta ubriacare. La Corte di Appello ha confermato a otto anni 45 mila euro di risarcimento alla figliastra e 5 mila euro alla madre. Una storia che avrà anche uno strascico perché l'uomo dovrà rispondere anche dell'accusa di induzione alla prostituzione nei confronti della figliastra. Insomma veramente una situazione molto molto brutta. La Volpe del Porto? Ignoratela. L'appello dell'educatore ambientale di CEA, del centro appunto che si occupa degli animali che vengono poi catturati per riabilitarli allo Stato Brado, Cristiangori, per salvare l'animale che scorazza in città. È stata avvistata nel centro direzionale Benelli e poi anche a Santa Veneranda, quindi scorazza per molti quartieri della città. Non date le cibo, mi raccomando, non va nemmeno adomesticata, ma va lasciata allo Stato Brado perché poi possa sopravvivere con i suoi mezzi. Ebbene, un caso veramente simpatico. A Vallefoglia, ab vaccinale alla Casa della Salute. Ripristinare qui la Guardia Medica e l'appello degli amministratori comunali di Pian del Bruscolo e zone limitrofe alla Regione. Un servizio importante per tutta la comunità della Valle del Foglia. A Urbino si mette in evidenza la visita della Presidente del Senato Casellati, che è giunta nella città Ducale per porgere un omaggio all'ex senatore Bo, il magnifico rettore della Università. Però c'è anche un altro aspetto che viene messo in evidenza dal titolo del Corriere Adriatico. Silenzio sulla legge per il capoluogo. Una legge che aveva richiesto il Sindaco Gambini per far sì che di fatto Urbino, accoppiata a Pesaro, venga riconosciuta come luogo di provincia. Prima visita a Urbino della Presidente del Senato accolta da Acquaroli, Gambini, Sgarbi e Calcagnini. Ancora sul Corriere Adriatico, la pagina di Fano, vediamo che sono stati individuati i due ragazzi che hanno così danneggiato il presepe del Pincio. Sono due ragazzi di buona famiglia, i teppisti al Pincio, identificati tramite le telecamere. Uno minorenne, l'altro diciottenne da poco. E poi abbiamo un'altra evoluzione per quanto riguarda le indagini. Pestaggio alla Rocca per lo smalto del ragazzo. Arrestati dopo sette mesi pure i quattro minori coinvolti. L'ordinanza è del GIP di Ancona, eseguita dal commissariato. Sono ragazzini di origine straniera. Tre erano in comunità. Il fatto lo ricordate. Quello che è avvenuto nei pressi della Rocca Malatestiana a Fano. Due ragazzi giunti da Pesaro avevano lo smalto nelle unghie, uno aveva i capelli biondi, sono stati inrisi e poi anche malmenati da un gruppo di ragazzi che stazionava davanti alla Rocca. I due ospedali di Pesaro e Fano perderanno le eccellenze. Dichiarano in questo senso l'ex sindaco Cesare Canaroli e l'ex deputato Gasperoni dubbiosi sulla situazione. E poi vediamo ancora sulla Val Metauro, sulla pagina di Fossombrone, donati ora i milioni sono sei per lavori energetici e sismici. Integrato il finanziamento iniziale per l'Istituto di Istruzione Superiore di Fossombrone. L'Istituto Donati, una eccellenza per quanto riguarda il territorio dell'entroterra, ora potrà godere di maggiori finanziamenti per il suo efficientamento energetico. E ancora sul giornale abbiamo una notizia da San Lorenzo in campo. Tra arredo estetica e salute, una rinascita verde del viale. Si tratta di una riforestazione della storica arteria urbana, completa il restyling di San Lorenzo. E veniamo ora al resto del Carlino. Dove l'articolo di apertura evidenzia il pugno duro nei confronti dei baby bulli in carcere, i quattro minorenni accusati di due rapine alla Rocca di Fano, il PM è troppo alto il pericolo di ripetere il reato. E quindi sono stati rinchiusi in carcere. Mamma e papà fanno da maestri. La fotonotizia centrale a Pesaro. 33 all'unni, figli di Novax, prendono lezione a casa. Una preside, così dice, è sbagliato. Questa è la sua appunto opinione. E poi in questo lato abbiamo lo sfogo di ignudi. La gente se ne va, non riusciamo più a migliorarci. Si parla di dottori del pronto soccorso, taglie e potature al miralfiore devastanti, così il parco perde l'anima. Troppi i tagli che vengono effettuati negli alberi. E poi abbiamo la rabbia del personale ATA. Maxi Taglio di 243 Bidelli. Oggi la protesta a Roma. Apriamo il giornale e vediamo subito che cosa accade per il resto del Carlino. Novax, 33 allunni non vanno più a scuola. Genitori autocertificano di istruirli da soli. Sono le famiglie contrarie alle imposizioni delle mascherine in classe che risiedono a Pesaro. Altri casi come questi a Gradara e Tavuglia. In particolare sono 17 scolaretti della primaria, 14 della secondaria e due che frequentano le scuole superiori. Ma così i bambini perdono la socialità. Una madre non può fare da maestra al figlio. Lucia Nonni, dirigente della Leopardi, interviene appunto sul problema e valuta il fenomeno dell'istruzione parentale. Fortuna che qualcuno sta ripensandoci, afferma. Comunque, non so, meglio che niente, meglio che perdere le lezioni. È importante che, insomma, questi ragazzi recuperano. E qui abbiamo la fotografia del primario del reparto di medicina di Marche Nord, Frausini. Parliamone insieme. Un camper per chiarire tutti i dubbi sui vaccini. Domenica prossima ospiterà primari e altri medici a Pesaro in Piazzale Colenuccio e a Urbino in Piazza della Repubblica. La Regione Marche le sta approvando tutte per convincere la gente a vaccinarsi. E dopo i camper vaccinali, l'ultima trovata ha sentito la Parliamone Insieme e consiste appunto in punti di informazione costituiti sempre da camper in cui chiunque vorrà potrà chiarirsi i dubbi sulla vaccinazione. Variante Omicron, mia figlia sta bene, parla la madre della ragazzina di Tolentino rientrata dal Sudafrica. Rispettate le regole, ma quante cattiverie ci hanno scritto sui social come se fossero dagli agli untori di manzoniana memoria. Insomma, ovviamente questa ragazzina non ha alcuna colpa e viene ora tutelata e tutelati anche gli altri nel migliore dei modi. Nudi, i medici vanno solo via. Siamo già finiti contro l'iceberg come fosse un Titanic, dice il primario del pronto soccorso. Il primario esorta la struttura a prendere provvedimenti per reclutare personale. Occorrono stipendi nettamente migliori, altrimenti qui non viene nessuno, ha dichiarato papale papale. No al taglio di 243 bidelli. I sindacati sfilano a Roma la rabbia del sindacato contro la legge di bilancio che non prevede risorse per rinnovare loro il contratto. La scura è anche su altri 60 amministrativi e quindi si taglia sul personale della scuola. Eppure, dice Tuscia Sonzini, sono quelli che hanno garantito le forze per affrontare l'emergenza. Un po' come gli infermieri e i medici negli ospedali. Gli insegnanti e il personale ATA sono quelli che hanno resistito nelle scuole per garantire la didattica nel miglior modo possibile per i ragazzi. La Lega punta sulla questura in provincia. L'intenzione di vendere tutto da parte dell'ente di Via Gramsci apre una opportunità preziosa, ma c'è in corsa anche l'Asul affamata di spazi. Insomma, questa sede della Banca d'Italia e Via Rossini viene ormai così disputata da diversi enti. Tutti vogliono trasferirsi, tutti vogliono così avere una sede più idonea alle loro necessità. Un caso, una nonnina condannata per bancarotta, due anni di reclusione a una 83enne accusata di aver distratto 130 mila euro dalle casse della sua azienda fallita, la TNC di Fano. Ha più di 80 anni e chissà se riuscirà a scontare, speriamo che vengano usate tutte le precauzioni possibili, di questa pena, appunto, questa signora di Fano che è stata riconosciuta colpevole di questi reati per l'imputata il beneficio della sospensione della pena. Per fortuna il giudice ha combinato guai iniziati un anno fa. E poi ancora hanno disboscato il parco, ma lo spaccio c'è ancora. Si parla ovviamente di Miralfiore, dove protestano gli ambientalisti, con i tagli impattanti, il bosco ha perso il 70% delle sue funzioni naturali. Insomma, dei tagli molto, molto drastici. E giriamo ancora il resto del Carlino. E siamo sulla pagina di Fano. L'articolo di apertura è dedicato all'arresto del Branco, che ha malmenato i due ragazzi pesaresi che erano giunti nei pressi della Rocca Malatestiana. E poi un articolo di fondo che riguarda la rappresentazione, diciamo, della Bohème al Teatro della Fortuna, effettuata per i ragazzi, tutti i spettatori Under 20. Scoroscianti applausi per i protagonisti dell'opera, la Bohème di Puccini, che sarà in cartellone per il pubblico domani sera alle ore 21. Una classe è mancata all'appuntamento, perché purtroppo è finita in quarantena. Sicurezza e pandemia magistrati a confronto. Tra una settimana ci sarà il primo incontro alla Mediateca Montanari sul tema della metamorfosi della serie che viene organizzata ogni anno per quanto riguarda le parole significative da ricordare. Tra una settimana, venerdì 17 dicembre, e riprenderanno gli incontri dal vivo alla Memo su giustizia e filosofia. L'anno scorso siamo riusciti a darle continuità, ma a distanza, hanno detto appunto i promotori di questa iniziativa, tra cui c'è anche l'assessore alle biblioteche Samuele Mascarine, c'è anche il giudice Messina, Francesco Messina, che organizzano questo incontro con diverse parole. La parola pro di quest'anno, quella caratterizzante è metamorfosi. Addio a Loretta Tonazzoli, la cronometrista della bontà. Oggi il funerale nella chiesa di San Paolo. Aveva 72 anni, viveva a Fano, ma era originaria del Trentino Alto Adige. E poi ancora una bella pubblicazione. Fano, tra ieri e oggi, un viaggio nella storia. Un libro scritto da Paolo Del Bianco, con 450 immagini tra natura, architettura e folklore, attuali o d'archivio, per capire i cambiamenti che ci sono stati in città. E qui abbiamo anche una serie di personaggi molto noti a Fano. Dalle foto aeree emergono anche l'espansione edilizia e le nuove aree verdi. Vaccinazioni, riapre il punto di Orciano. Allestito al Centro Salute di Via Fornace, da domani sarà attivo ed eviterà ai residenti di doversi recare negli hub di Pesaro e di Fano. E poi la bellezza del matrimonio, raccontata attraverso le esperienze senza frontieri, è il contenuto di un nuovo libro, scritto da Marco Gasparini, direttore del Centro Missionario. È un libro che verrà presentato domani alle 17.30 alla Biblioteca di San Costanzo. A Urbino sono qui per omaggiare Bo, grande italiano, ha dichiarato la Presidente Casellati. Qui la vediamo ritratta insieme ad Acquaroli, a Gambini e a Sgarbi, curata, catturata dalla bellezza delle pietre e dei mattoni di Urbino, entusiasta di girarne il centro storico e grata per gli eventi organizzati ieri, Maria Elisabetta Alberti Casellati è arrivata in città ed è rimasta impressionata dalla bellezza della città ducale. Una legge per Urbino capoluogo, ma il Sindaco Gambini ha affrontato con la Casellati i problemi della città e del territorio, ampia intesa su tutto. Però, insomma, il giornale abbiamo visto come il Corriere Adriatico abbia detto che ci sono le parole, ma i fatti, insomma, c'è qualche dubbio. In Senato sono stato io referente del Magnifico. Dopo la nomina a vita da Pertini, il rettore Carlo Bo si ritrovò senza uno staff. Lo aiutò Giorgio Girelli. Il ramarico, vediamo Giorgio Girelli qui insieme a Bo, il ramarico non poteva votare per Spadolini presidente. Insomma, uno dei fatti curiosi ricordati appunto per quanto riguarda Bo. E siamo ormai all'ultima notizia. Attesa la grande nevicata per andare a sciare, i centimetri già caduti sul Nerone, Catria e altre vette sono ancora insufficienti per aprire gli impianti, ma da sabato molto cambierà e quindi è prevista nuova neve. E questa era l'ultima notizia per oggi. Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento alla rassegna stampa di domani alle ore 7. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata.